era durante la stagione della caccia nel castello di bonneville l'autunno era piovoso e triste le foglie rosse non scricchiolavano sotto i nostri passi e marcivano nelle iole per il peso degli acquazzoni la foresta quasi spoglia era umida come un bagno pubblico quando vi entravamo sotto i grandi alberi sferzati da gocce larghe un odor di muffa un vapore umido di acqua caduta da poco di erbe macerate di terra bagnata ci avvolgeva completamente e i cacciatori curvi sotto la pioggia ininterrotta e i cani avviliti la coda bassa e il pelo incollato ai fianchi e le giovani amazzoni nelle loro vesti aderenti e zuppe per la pioggia rientravano ogni sera stanchi di corpo e di spirito dopo pranzo giocavamo a tombola nel salotto grande senza piacere mentre il vento sbatteva ruborosamente le imposte e costringeva le vecchie banderuole a far giravolte pazze come trottole pensammo allora di raccontarci qualche storia proprio come si legge nei romanzi ma nessuno era capace di trovare qualcosa di divertente i cacciatori raccontavano avventure piene di fucilate e di stragi di conigli e le donne si spremevano le meningi senza scoprirvi l'immaginazione di Sherazad stavamo per rinunciare a questo divertimento quando una ragazza mentre giocava sopra pensiero con la mano di una vecchia zia rimasta nubile notò un piccolo anello che racchiudeva una ciocca di capelli biondi un anello che aveva veduto spesso senza prestarvi mai attenzione allora facendolo girare pian piano attorno al dito chiese dimmi zia cos'è questo anello? sembra fatto con i capelli di un bambino la vecchia signorina arrossì diventò pallida poi con la voce che le tremava disse è una triste storia tanto triste che non vorrei parlarne mai tutte le disgrazie della mia vita derivano da questa storia ero molto giovane allora e me ne è rimasto un ricordo così doloroso che piango ogni volta che ci penso subito desiderammo conoscere la storia ma la zia rifiutava di raccontarla la pregammo tanto che finalmente finì col decidersi mi avete inteso parlare spesso della famiglia dei Santez oggi estinta ho conosciuto gli ultimi tre maschi di questa casata sono morti tutti e tre nello stesso modo ecco i capelli dell'ultimo aveva tredici anni quando si è ucciso per me vi sembra strano non è vero? oh erano esaltati un po' tutti se vogliamo degli esaltati meravigliosi pazzi per l'amore tutti di padre in figlio avevano passioni violentissime tutto il loro essere li spingeva alle imprese più straordinarie ad attaccamenti fanatici talvolta fino al delitto era qualcosa di innato in loro come la devozione ardente in certe anime coloro che diventano trappisti non hanno certo la medesima natura dei vagheggini d'assalotto di loro si diceva nel nostro circolo familiare appassionato come un Santez sin dal primo sguardo si indovinava il loro animo avevano tutti dei capelli ricciuti che ricadevano sulla fronte la barba ricciuta e gli occhi grandi grandi la cui luce riusciva ad entrare dentro di voi a turbarvi senza un preciso motivo il nonno di colui di cui posseggo l'unico ricordo dopo molte avventure duelli e rapimenti si innamorò perdutamente verso i sessantacinque anni della figlia del suo fattore li ho conosciuti entrambi lei era bionda, pallida, fine con un modo di parlare lento una voce morbida e uno sguardo tanto dolce tanto dolce che poteva essere quello di una madonna il vecchio signore l'ha preso in casa e ne fu presto talmente affascinato che non poteva fare a meno della presenza di lei nemmeno per un minuto la figlia e la nuora che abitavano nello stesso castello trovavano la cosa naturale perché l'amore era sempre stato nelle tradizioni di famiglia quando si trattava di una nuova passione nulla poteva stupirle e se davanti a loro parlavamo di inclinazioni contrastate di amanti divisi persino di vendette dopo i tradimenti tutte e due dicevano con la stessa espressione desolata oh, quanto deve aver sofferto lui o lei per arrivare a una simile decisione neanche di più avevano pietà d'ogni dramma del cuore e non s'indignavano mai nemmeno dei delitti ora durante un autunno un giovane gentiluomo il signor Grandel invitato per la caccia rapì la ragazza il signor di Sant'Ese rimase calmo come se non fosse accaduto nulla ma un mattino lo trovarono impiccato nel canile in mezzo ai cani suo figlio morì nello stesso modo in un albergo di Parigi durante un viaggio che fece nel 1841 dopo essere stato ingannato da una cantante dell'Opera lasciava un bambino di 12 anni e una vedova che era la sorella di mia madre mia zia venne ad abitare in casa mia insieme col figlio nei nostri possedimenti di Bertillon allora avevo 17 anni non potete certo figurarvi che bambino sorprendente e precoce era il piccolo Sant'Ese tutte le tenerezze tutte le esaltazioni della sua razza erano ricadute su di lui sull'ultimo erede sognava ogni giorno e faceva delle lunghe passeggiate da solo per ore e ore in un grande viale di olmi che andava dal bosco al castello io guardavo dalla finestra questo ragazzino sentimentale che camminava con passi lenti e gravi le mani unite dietro la schiena la fronte corrugata e che talora si fermava per rialzare gli occhi come se vedesse e comprendesse e fosse commosso da sentimenti che non erano della sua età spesso dopo cena mi diceva nelle notti chiare andiamo a sognare cugina e giravamo insieme nel parco si fermava all'improvviso davanti a quella radura in cui fluttuava quel vapore bianco quell'atmosfera ovvattata da cui la luna orna gli spiazzi nei boschi e mi diceva stringendomi la mano guarda guarda tu non mi capisci lo sento se tu mi capissi saremmo felici per sapere bisogna amare io ridevo e abbracciavo quel ragazzaccio che mi voleva tanto bene da morire così di frequente dopo colazione andava a sedersi sui ginocchi di mia mamma su zia le diceva raccontaci delle storie d'amore e mia madre per scherzare gli narrava tutte le storie della sua famiglia tutte le avventure amorose di suo padre e del nonno perché raccontavano su loro tante e tante di quelle storie false e vere è la loro fama che ha perduto tutti gli uomini di quella famiglia si montavano la testa e cercavano poi di non smentire la rinomanza del loro casato il ragazzo si esaltava a quei racconti teneri o terribili e qualche volta batteva le mani ripetendo anche io saprò amare meglio di tutti loro allora cominciò a farmi la corte una corte timida e profondamente tenera di cui ridevano tutti tanto era buffa ogni mattina avevo un mazzo di fiori raccolto da lui e ogni sera prima di risalire in camera mi baciavo la mano mormorandomi ti amo fu colpa mia fu tutta colpa mia e ancora ne piango e ne ho fatto penitenza per tutta la vita e sono rimasta zitella o meglio no sono rimasta come una fidanzata vedova vedova di lui mi divertì di quella tenerezza infantile presi gusto persino a eccitarlo feci la civetta lo affascinai come se fosse un uomo carezzevole e perfida feci impazzire d'amore un bambino era un gioco per me e un passatempo grazioso per sua madre e la mia aveva dodici anni pensate e chi avrebbe potuto prendere sul serio la sua passione l'abbracciavo tutte le volte che voleva arrivai perfino a scrivergli dei bigliettini teneri che le nostre mamme leggevano ed egli mi rispondeva con delle lettere certe lettere di fuoco che ho conservato credeva segreta l'intimità del nostro amore credeva di essere un uomo e noi avevamo dimenticato che era un santez passò un anno una sera nel parco si buttò ai miei ginocchi e baciando un lembo della mia veste con slancio furioso disse ti amo ti amo ti amo da morirne se mi inganni bada se mi abbandoni per un altro farò come mio padre e aggiunse con una voce tanto bassa da dare i brividi sai bene che cosa ha fatto e mentre io rimanevo interdetta si alzò alzandosi sulla punta dei piedi per arrivare al mio orecchio perché io ero parecchio più alta di lui modulò il mio nome il nome chenevieve in modo così dolce così grazioso e così tenero che tremai tutta balbettai torniamo a casa torniamo non disse più nulla e mi seguì ma mentre stavamo per risalire i gradini della scalinata mi costrinse a fermarmi lo sai bene se mi abbandoni io m'ammazzo compresi allora che m'ero spinta troppo in là e divenni fredda e riservata con lui e poiché un giorno egli mi rimproverava gli risposi ora sei troppo grande per continuare a scherzare è troppo piccolo per un vero amore è meglio aspettare credevo in tal modo d'averlo persuaso a lasciarmi in autunno lo misero in collegio quando tornò l'estate successiva io ero già fidanzata capì subito e per otto giorni mantenne un'aria tanto pensierosa che destò la mia inquietudine il nono giorno la mattina vidi quando mi alzai un bigliettino infilato sotto la porta lo presi l'apri l'essi ma hai abbandonato e sai bene quel che t'ho detto hai ordinato la mia morte poiché non voglio essere ritrovato altro che da te vieni nel parco proprio al posto in cui l'anno scorso t'ho detto che ti amavo e guarda in alto stavo per impazzire mi vesti in gran fretta e corsi corsi sino a cadere spossata per arrivare al posto indicato il suo berretto da collegiale era in terra sul fango aveva piovuto tutta la notte alzai gli occhi e vidi qualcosa che dondolava tra le foglie perché c'era vento molto vento non so più quel che ho fatto dopo debbo aver urlato da principio debbo essere svenuta forse per essere corsa al castello ripresi i sensi che ero a letto con mia madre al capezzale credetti di aver sognato tutto ciò in uno spaventoso delirio balbettai e lui lui Gontran nessuno osò rispondermi era vero non ebbi cuore a rivederlo ma chiesi una ciocca dei suoi capelli eccola eccola qui e la vecchia signorina tendeva la mano tremante in un gesto di disperazione poi si soffiò il naso parecchie volte si asciugò gli occhi e riprese ho rotto il mio fidanzamento senza spiegarne il motivo e sono rimasta sempre la vedova di un bambino di tredici anni allora il capo le ricadde sul petto ed è la pianza lungo assorta mentre tornavamo in camera per andare a dormire un grosso cacciatore che era stato turbato dal racconto mi spigliò all'orecchio del vicino è una disgrazia essere tanto sentimentali ti edo mi è und' un bambino a la vecchia signorina la vecchia signora Grazie a tutti.